Ma guardi, per quanto mi riguarda, se dovesse passare questo emendamento, io subito dopo voto a favore delle preferenze, che mai avrei pensato di farlo, perché non voglio arrivare qua per una quota, voglio arrivare qua perché gli italiani mi mandano in questo palazzo nel Parlamento italiano e quindi le preferenze così ci contiamo tutti.